Ciao amici di Mr. Gadget, benvenuti all'appuntamento con un'altra delle recensioni in cui vi presento uno dei prodotti secondo me più interessanti di questo periodo. Probabilmente tra pochi giorni verrà un po' offuscato dalle novità che troveremo al Mobile World Congress, ma nonostante questo rimane un prodotto molto interessante, si chiama Samsung Galaxy A8. Allora diamo un occhio da vicino a questo Samsung Galaxy A8 e io rispondo subito alle vostre critiche. Non si può sempre partire solo ed esclusivamente dal prezzo per due ragioni. A perché questo telefono è al centro di promozioni incredibili per cui ve lo potete portare a casa davvero per delle cifre molto molto contenute perché c'è un fortissimo sussidio dato dagli operatori per l'acquisto del Samsung Galaxy A8 2018 e poi perché secondo me c'è un elemento che è quello della qualità che entra spesso in gioco quando si parla di un prodotto di tecnologia. E Samsung ha un livello qualitativo di molti aspetti di questo telefono veramente eccellente. Parto dalla costruzione vetro sulla parte posteriore, vetro su quella anteriore con quello che Samsung chiama l'Infinite Display con una diagonale da 5,6 pollici, una proporzione 18,59, vuol dire 1080 x 2220 pixel. A bordo di questo telefono c'è l'Exynos 7885 che è un octa-core molto potente con 4 giga di RAM il tutto alimentato da una batteria da 3000 mAh. Allora la batteria non mi ha mai dato problemi di sussistenza. La cosa fondamentale da ricordare è che per la prima volta Samsung propone una soluzione che probabilmente rivedremo anche nell'S9 che presenteremo tra qualche giorno e che verrà presentato tra qualche giorno, quindi il sensore delle impronte digitali sotto la fotocamera. Non mi nascondo che per me non cambia molto, io finisco comunque spesso col dito sulla fotocamera, preferisco una posizione più bassa, ma sempre meglio dello scorso anno quando era laterale. Altra caratteristica di questo telefono è il profilo in alluminio molto curato, molto ben rifinito e tra l'altro anche la posizione dell'altoparlante laterale. Questo richiama un po' il Samsung Galaxy A5 di cui è il naturale successore. Io trovo che il Samsung Galaxy A8 2018 potrebbe chiamarsi benissimo S8 Mini per alcune caratteristiche. Mancano i bordi curvi, però guardate anche le cornici come siano veramente minimali, sia nella parte superiore che nella parte inferiore. Dovendo cercare sempre gli elementi distintivi, certo il display Super AMOLED è già un vantaggio rispetto alla concorrenza non indifferente, guardate l'angolo di lettura, dovreste staccarvi gli occhi dalla testa e spostarli per riuscire a battere questo angolo di lettura, andare oltre questo angolo di visione. Potrete sbirciare tutto quello che fanno i vostri vicini in metropolitana, però ecco, il display Super AMOLED è già un dettaglio importante. Tra l'altro proporzione tra display e superficie totale del telefono 75,6%, quindi veramente molto elevata. Ma poi direi 32 GB di memoria, espansione microSD e vi faccio notare tra l'altro che questo è un dual sim vero. Questo è il cassettino della sim principale, quella che va anche in 4G e in 4G+, questa invece è la sim secondaria, c'è anche la microSD, quindi potete utilizzare due sim e la microSD contemporaneamente. Vi segnalo solo una cosa, vi segnalo una cosa importante, ovvero il fatto che questo telefono con la sim secondaria, cioè con la sim numero 2, vi permette solo di navigare in 3G e non in 4G. Quindi una sim in 4G+, l'altra invece in 3G. Altro dettaglio, questo telefono ha una certificazione IP68, che è un altro elemento secondo me importante per usare il telefono senza tanti stress. C'è l'attacco per le cuffie da 3,5 mm, un connettore USB Type-C nella parte inferiore, poi abbiamo detto dunque che l'altoparlante sta da questa parte. Qui c'è il pulsante d'accensione, volume rocker invece su questo lato. Potremmo spendere molto tempo anche sul software, perché io credo che l'interfaccia, che non è esattamente la stessa di S8 e Note 8, ma ci andiamo veramente molto vicino, rappresenta uno dei punti di forza di Samsung. Una volta TouchWiz era veramente la bestia nera di molti appassionati di Android, invece adesso la UX Experience è secondo me una delle migliori espressioni di Android. Con delle personalizzazioni interessanti, no? Ad esempio quando voi navigate in Internet, avete la possibilità di accedere immediatamente a questo menu per trovare aperture di nuove schede, cambiare il testo della pagina per attivare la modalità Note, oppure volete anche per condividere quello che state leggendo con il mondo intero. Non solo, perché avete la possibilità di utilizzare anche le doppie applicazioni. Quindi vuol dire che per il Messenger, per Facebook, avete dunque la possibilità di entrare con due account diversi all'interno dell'applicazione stessa. E questa secondo me è una cosa super utile che potete utilizzare davvero alla grande. Non solo, vi segnalo la fotocamera, perché questa è la cosa fondamentale, no? Una fotocamera posteriore da 16 megapixel, tra l'altro con un'apertura 1.7, quindi comunque una resa notevole, peraltro con dei pixel da 1,12 micron, mentre sulla parte anteriore vedete quella che è la doppia fotocamera, no? Vedete qui i due sensori della fotocamera, e in questo caso bisogna parlare di una fotocamera da 16 megapixel o da 8 megapixel, peraltro entrambi con apertura 1.9, quindi in grado di scattare delle foto veramente eccellenti, anche quando voi siete in una condizione non facile come quella con poca luce. E questo è uno dei dettagli, secondo me, che fanno la differenza. Ma l'altro dettaglio importante è questo, c'è la messa a fuoco live. Vuol dire cioè che quando scattate un selfie siete in grado di sfuocare in tempo reale quello che sta dietro di voi con un effetto che è particolarmente gradevole, simile a quello delle fotocamere principali. Poi avete il fenomeno degli adesivi, se avete più di 12 anni forse non vi interesserà più di tanto, però insomma per chi è appassionato anche delle immagini di Snapchat, o comunque vuole magari pubblicare su Instagram con qualcosa di creativo in più, questa sicuramente è una buona soluzione. Navigazione del telefono, secondo me, buona, con ottima qualità. C'è ovviamente Bixby a bordo del telefono, quindi potete essenzialmente gestire il telefono con la voce non ancora in italiano e qui non c'è il tasto dedicato che c'è sul Galaxy S8 e che probabilmente ci sarà anche sul Galaxy S9. Vi faccio sentire anche l'audio, tra l'altro, di questo telefono che può essere sempre importante. La soluzione, tra l'altro, è quella, abbiamo visto, di un altoparlante messo sulla parte laterale perché essenzialmente quando voi impugnate il vostro telefono, l'audio non viene infastidito, non viene bloccato dalla posizione delle vostre mani. Vediamo la qualità. Ecco, sottolineo una cosa, tra l'altro, io sto usando il telefono senza la sim in questo momento. Allora, vediamo il multimedia. Devo dire che la qualità dell'audio è buona e anche il volume è molto elevato. Peraltro, vi faccio notare una cosa, che potete scegliere di controllare con il tasto volume per, diciamo, decisione predefinita direttamente il volume, non di sistema, ma multimediale. Insomma, Galaxy A8, secondo me, è un prodotto bello, completo, bellissimo da impugnare, fa belle fotografie, ha una batteria da 3.000 mAh che è sicuramente sufficiente per una giornata di lavoro. Sottolineo, tra l'altro, una cosa importante che stavo dimenticando, che per me, che sono Mr. Gadget, che lavoro tra l'altro alla radio, che vi aspetto ogni giorno su Radio Number One, è una cosa importante. Finalmente Samsung ha riportato, adesso non ci sono le cuffie, quindi non funziona, la radio FM dentro i suoi telefoni. L'ha fatto negli Stati Uniti e lo fa anche da noi con il Samsung Galaxy A8. I telefoni senza la radio dentro dovrebbero essere illegali perché quelli come me, altrimenti, morirebbero di fame. Ma questo è altro tema. Allora, Samsung Galaxy A8, c'è la variabile prezzo perché 549 euro sono un prezzo, un posizionamento importante, ma si trova, insomma, online a 400 euro. E poi gli operatori stanno facendo delle offerte incredibili per farvelo portare a casa ad un prezzo di gran lunga inferiore. Io non ho dubbi, promosso da Mr. Gadget.